In bella vista nel centro della piazza si trova il 5 in 1, di Bernard Rosenthal 1974. Si innalza ad una altezza di 30 piedi 9.1 metri ed è fatto con 75 tonnellate 68 kg di acciaio corten. Non verniciato per anni dopo il suo compimento, è ora di color rosso acceso, secondo il progetto originale di Rosenthal. Rosenthal la ritiene una scultura astratta, ma molti preferiscono vedere i 5 distretti intrecciati simbolicamente. L'edificio di fronte a te, è il palazzo del quartiere generale di polizia. Il Dumpolice Plaza, è il quartiere generale del dipartimento di polizia della città di New York Il quartiere generale per il dipartimento di polizia di New York era precedentemente situato al 240 Center Street, a circa un milio a nord dell'Umpolice Plaza. Il palazzo ha una planimetria rettangolare, ed è una piramide invertita in altezza. È un edificio brutalista a 13 livelli, orientato orizzontalmente, progettato da Gruzzen e soci nel 1973. All'ottavo piano dell'Umpolice Plaza, c'è il Centro Real Time Crime, una rete di computer anticrimine che, in sostanza, è un enorme motore di ricerca, ed un archivio dati gestito dai detective per assistere i poliziotti in campo nelle loro investigazioni. Anche la squadra per le indagini importanti e l'unità di risposta di assistenza tecnica si trovano all'Umpolice Plaza. Se sei di fronte al palazzo del quartiere generale di polizia, e dai uno sguardo in diagonale a sinistra, vedrai il Centro di Correzione Metropolitano Federale. Il Centro di Correzione Metropolitano MCC. È un centro di custodia preventiva dell'Ufficio Carcerario Federale nel centro di Manhattan. Il MCC di New York è un complesso amministrativo, designato per ospitare prigionieri federali a tutti i livelli di sicurezza, include trasgressori di sesso maschile e femminile, che devono presentarsi davanti alla corte distrettuale degli Stati Uniti, per il distretto meridionale di New York.